Forse un attentato, forse un suicidio. Non è ancora chiara la ragione della morte di Giuseppe Impastato, 30 anni, dilaniato dall'esplosione di una bomba questa notte sui binari del treno Palermo-Trapani. Impastato era candidato, nella lista di democrazia proletaria, alle elezioni comunali del 14 maggio a Cinisi, alle porte del capoluogo siciliano. In seguito ad una perquisizione in casa della madre di Giuseppe Impastato, i carabinieri hanno trovato una lettera in cui il giovane manifestava la volontà di togliersi la vita. Si è trattato di un fallito attentato terroristico oppure di un suicidio. Per gli investigatori entrambe le ipotesi sono valide. Si indaga, negli ambienti della sinistra extraparlamentare di Cinisi, perquisite senza esito le case dei familiari e dei compagni di Impastato.